12. Destra e sinistra? Ma dunque questo assetto politico descritto è un assetto politico di destra o un assetto politico di sinistra? Queste espressioni non hanno in realtà alcun senso reale, ma volendole proprio utilizzare, l'orientamento protettivo interno potrebbe certamente essere definito di destra, mentre la tutela delle fasce più fragili della popolazione potrebbe certamente essere definita di sinistra. Eppure la prospettiva ha, come mi auguro di stare mostrando, una sua propria coerenza, coesione intrinseca, che quindi nel suo esprimersi sta proprio lì a dimostrare come queste antinomie, retaggio di un parlamentarismo secolare e sostanzialmente sorpassato, siano del tutto inefficaci.